Consigliere Ghiroldi, è l'ultima dichiarazione di voto. Grazie Presidente, io innanzitutto mi complimento con la Commissione Montagna, con la Commissione Agricoltura, che hanno saputo sviluppare un testo che mi pare comunque largamente condiviso all'interno di questa Assemblea e mi complimento con l'Ufficio di Presidenza e in particolare con il Presidente Fermi, che è stato il principale promotore di questa iniziativa. Sarà una bella iniziativa che avrà come scopo quella di valorizzare i territori di montagna in questa giornata in cui le montagne saranno al centro dell'attenzione della Regione Lombardia, prima Regione che istituisce oltretutto una giornata specifica sulla montagna e di questo dobbiamo anche esserne orgogliosi, ma sarà un momento in cui la montagna avrà attenzione e verranno valorizzate le sue caratteristiche, le sue eccellenze, le sue bellezze, le sue tipicità, da tutti i punti di vista, non solo ambientali, ma anche enogastronomiche. Mi complimento con le associazioni che hanno collaborato a redigere questo testo di legge, secondo me non è sbagliato il fatto che si faccia un testo di legge su un tema di questo tipo, anche perché un testo di legge specifico dà l'attenzione che la gente ha bisogno di avere su un tema come questo e quindi riesce comunque a essere molto più visibile. Questa consigliatura certo è partita con una grande attenzione ai territori di montagna, quello che caratterizza questa consigliatura è proprio stata l'istituzione di un assessorato specifico per la montagna e l'istituzione di una commissione per la montagna. Io qua ho sentito alcune dichiarazioni che evidenziano tutto sommato una sottoattività da parte di questa istituzione nei confronti della montagna. Sinceramente non mi pare, si può fare sicuramente di più e si deve fare sicuramente di più e noi dobbiamo continuare su questo percorso perché la commissione e l'assessorato hanno come obiettivo quello di perseguire alcuni temi, alcuni progetti che dovranno essere sostenuti con forza anche da quest'Aula. Però devo essere sincero, io ho notato molti provvedimenti passati sia in quest'Aula ma anche oggetto di lavoro della Giunta che hanno riguardato ad esempio il problema del dissesto idrogeologico. È vero che non bastano mai le risorse per questo tipo di problema ma comunque c'è sempre stata attenzione per i territori di montagna. Voglio ricordare il grande sforzo che è stato fatto e che dovremmo proseguire sulle Olimpiadi del 2026 che comunque daranno risalto, visibilità, risorse anche alle infrastrutture delle nostre montagne. Voglio ricordare la grande battaglia storica, epica per i territori di montagna che è quella sull'idroelettrico che sarà un passaggio fondamentale per la vita di questi territori e non dobbiamo ovviamente sbagliare il tema. Abbiamo già passato, al di là dell'impegno dell'assessore Sertori sul tema idroelettrico, abbiamo passato in quest'aula proprio in corrispondenza dell'ultima sessione di bilancio il discorso della gratuità che andrà a ricadere sui territori ovviamente indirizzata alle strutture socio-sanitarie ed è un primo passo importante. Abbiamo approvato sempre in corrispondenza della sessione di bilancio un ordine del giorno che andava a stimolare la Giunta affinché investisse nei territori di montagna i canoni idroelettrici incassati da Regione Lombardia attraverso il meccanismo della programmazione negoziata. Sono piccoli passi, siamo d'accordo, ma sono secondo me passi significativi per dare ristoro a battaglie storiche che i territori di montagna portano avanti da anni. voglio ricordare che abbiamo anche un assessore all'agricoltura, l'assessore Fabio Rolfi che da sempre cerca di impegnarsi per dare conforto al settore agricolo di montagna e mi pare che nelle sue intenzioni ci sia quello di istituire nel piano di sviluppo rurale una linea dedicata proprio all'agricoltura di montagna perché sappiamo che l'agricoltura di montagna spesso dalla PAC, dalla grande programmazione economica europea non è vista perché è considerata comunque un'agricoltura marginale e proprio qui la Regione Lombardia dovrà fare la sua parte e conto che sarà una parte significativa. C'è da fare di più? Sicuramente sì. Ci sono molti temi che aspettano i territori di montagna che molti problemi che i territori di montagna si aspettano che noi siamo in grado di risolvere però credo che l'impegno di tutti vada proprio in questa direzione e voglio però concludere ricordando a tutti noi maggioranza e minoranza e lo sintetizzo il bellissimo passaggio di un libro che invito un po' tutti a leggere che potrei riassumere in questo modo se noi non saremo in grado di attuare politiche specifiche per la montagna il risultato è che fra qualche anno in montagna ci saranno più lampioni che persone questo libro è secondo Matteo di Matteo Salvini. Grazie Grazie Consiglio Ghiroldi non ci resta che